Totti torna a Trigoria con Noemi, cosa ha fatto e perché? Francesco Totti è tornato a Trigoria. Oggi lo storico capitano della Roma era il Fulvio Bernardini con Noemi Bocchi. La nuova compagna, e la figlia Chanel. Il motivo? La partita di Christian, primogenito di Totti e Lari Blasi. Che era impegnato con l'Under 18 giallorossa contro il Cesena. Anche grazie a Totti portafortuna la Roma ha vinto 3 a 2. Virgola.